Fratelli, state saldi! Questo invito è stato rivolto da San Paolo ai Tessalonicesi, circa 2000 anni fa, ed oggi è rivolto a me e a te. Sempre nella storia dell'uomo ci sono state violenze, distruzione e morte. San Paolo lo chiama il mistero dell'iniquità. Noi cristiani però sappiamo che la violenza, la distruzione e la morte sono già state sconfitte e il bene trionferà, proprio attraverso coloro che rimarranno saldi nella fede che hanno ricevuto. Questo è proprio il mio e il tuo compito, rimanere saldi nella fede per salvare il mondo dalla distruzione.